Oggi Fratelli d'Italia ha chiesto al Ministro Lamorgese quali sono le intenzioni del Governo italiano rispetto al fenomeno migratorio e soprattutto quale posizione il Governo italiano intenderà prendere in Europa al prossimo Consiglio. In realtà nessuna risposta dalla Lamorgese. Il Governo italiano continua a sottovalutare il problema, continua a non prendere una vera e chiara posizione quando in Europa, Francia e Germania ci hanno già detto che non sono d'accordo con i ricollocamenti obbligatori e allora ci vogliono delle risposte nazionali che siano in grado di difendere le nostre coste e che non possono essere piegate alla ideologia falso-bonista della sinistra.